E là, super. Allora, volevo dire a tutto il popolo di Telese, cioè la gente che sta proprio a Telese, ma che sta anche vicino a Telese, e anche lontano da Telese, loro dicono che il popolo è Telese che si sta allontando, ma ci devi fare tutto questo. Allora, volevo dire che il 22-23 di febbraio, prima era solo il 22, poi mi hanno detto che le cose vanno bene, sta arrivando in la terra mia, ma pure in la terra vosso, insomma, si fa un altro giorno, cioè oltre il 22, anche il 23, al teatro, lì, a Telese, è modernissimo, è un teatro vecchio, è un teatro non moderno, ma modernissimo. Ci veniamo là, poi vi spieghi, quindi il 22-23 di febbraio, c'è una direttiva buona, vuol dire a fare, con voi sicuramente, voi vi fate sicuramente divertire, ci vediamo. Grazie a tutti, grazie a tutti.